Musica Buonasera a tutti, è un piacere salutarvi e ringraziarvi per questo Legend Music Award che ricevo Buonasera a tutti Hi, this is Pearl Junior and I am so glad to be a part of the Legend Music Award for giving us an opportunity to collaborate with the official European Convention in this interview that we're going to conduct on behalf of Michael Jackson from his 2005 attorney Tom Mesereau. Hi Tom. Hi Pearl, good to see you again. Nice to see you again too. So, you know, the fans all love you. And the European fans and everyone. And I was asked if you would give a statement or be interviewed in regards to the Legend Music Awards. Well, first of all, it's delightful to see you again. You've done wonderful things to support the legacy of Michael Jackson. I want to particularly mention Samantha Zola and all those who put together the Legend Music Awards. They're wonderful people. They've done a wonderful job to try and celebrate the legacy and the history and the meaning of Michael Jackson. Even though I went into the trial thinking and believing that Michael was guilty. I still couldn't help but watch him every minute and watch his expressions and look at a man who to me look like an angel. Non potevo fare a meno di continuare a fissarlo e di guardare quest'uomo che ai miei occhi sembrava un angelo. Dunque, io sono stata la segretaria legale dell'avvocato che per primo ha cercato di incastrare Michael Jackson. Io ho scritto questo libro nel 2004. I fatti sono relativi al 2003, il periodo in cui tutti dicevano che Michael Jackson era un pedofilo. Io nel mio libro nel 2004 ho scritto che non era vero e ho spiegato perché. Io nel mio libro nel 2004 ho scritto che non era vero e ho spiegato perché. Io nel mio libro nel 2004 ho scritto che non era vero e ho spiegato perché. Io nel mio libro nel 2004 ho scritto che non era vero e ho spiegato perché. Io nel mio libro nel 24. Ciao! Grazie.